Saluti a tutti i presenti qui con noi. A nome della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, vorrei darvi il benvenuto alla quarta conferenza GP2 di quest'anno accademico. Questo ciclo è organizzato dall'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II, che fa parte della nostra Facoltà di Filosofia qui all'Angelicum di Roma. Questa conferenza, così come la successive, non avrebbe potuto svolgersi senza il supporto della nostra autorità universitaria, fra Thomas Joseph White, rettore dell'Angelicum, fra se e c'è Thomas Bonino, il direttore del Dipartamento di Filosofia, che desiderio ringraziare. Un ringraziamento speciale va anche ai fondatori dell'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II, donatori e sostenitori dell'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II, al nostro pubblico e a tutti gli spettatori davanti ai loro schermi. Siamo felici di poterci finalmente incontrare di persona. L'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II è stato fondato per guardare alla sfide che il mondo moderno, la Chiesa, devono affrontare alla luce della vita e del pensiero di San Giovanni Paolo II. L'idea di pensare con Giovanni Paolo II ha preso forma nelle serie di conferenze GPTU, conferenze mensili tenute da eminenti accademici interdisciplinari che rivisteranno gli straordinari contributi lasciatici da Giovanni Paolo II. Il mese scorso, alla terza conferenza GPTU di quest'anno accademico, abbiamo avuto l'onore di ospitare George Weigel, che ha condiviso con noi le sue riflessioni sul Sermone d'Aropago, che il Papa vedeva come una sorta di metafora della situazione della Chiesa nell'Europa post-cristiana. Come San Paolo si è rivolto ai pagani, così oggi la Chiesa dovrebbe volgersi verso le persone predute e predicare loro il Vangelo. Nella nostra serie di incontri, prevista per tutto l'anno accademico 2021-2022, ospiteremo docenti rinomati come il professor Joel Milbank, Carl Anderson, la professoressa Eva Thompson, il professor Stanislaw Griegel. Ora sono lieto di dare la parola al dottore Darius Karwovic, iniziatore della serie di conferenze GPTU, filosofo, presidente della Fondazione San Nicolás, partner strategico dell'Istituto e direttore del programma dell'Istituto di Cultura San Giovanni Paolo II. Darius Karwovic ci racconterà qualcosa di più sull'ospite speciale di oggi. Buongiorno cari amici, sono onorato di introdurre il professor Andrea Riccardi, storico professore politico italiano. È professore di storia contemporanea all'Università La Terza di Roma, ha insegnato anche all'Università di Bari. Diverse università li hanno riconosciuto laurea honoris causa per i suoi meriti storici e culturali. Andrea Riccardi è noto a livello internazionale per aver fondato nel 1968 la comunità di San Egidio. E' stato anche ministro della cooperazione sociale internazionale, questo è il nome, integrazione, nel gabinetto del primo ministro italiano Mario Monti. Ora sul tema della conferenza. Nella sua conferenza il professor Riccardi tenterà di rispondere alla domanda il pontificato di Giovanni Paolo II è stato un'illusione o un'escezione del declino del cristianesimo tra il nostro secolo. La conferenza tenterà di interpretare la complessa lezione del suo pontificato tra cultura, messianismo, fede come forza di cambiamento dei cristiani e dimensione carismatica della Chiesa nel contesto delle diverse forme tradizionali ed emergenti di religiosità comunitaria. Professor Riccardi, a lei la parola. Grazie. Ringrazio molto per questo invito a parlare di Giovanni Paolo II e debbo precisare che ne parlo all'interno di una riflessione storiografica anche se ho conosciuto abbastanza bene Giovanni Paolo II e l'ho frequentato regolarmente dal 1978 quando è stato eletto Papa Roma fino alla sua morte. E ho seguito passo per passo anche nel colloquio diretto con lui lo svolgimento del suo pontificato. Grazie, dottore, per come lei mi ha introdotto. Noi viviamo in un tempo in cui gli anni di Votila sembrano un'illusione perché si è riflettuto poco sul lungo pontificato di Giovanni Paolo II a livello storiografico. È lungo, 27 anni, anche se alcuni segnati dalla malattia. Eppure essendo molto citato da Ratzinger dopo la sua elezione Papa Voitila è progressivamente scivolato nell'oblio. Durante le celebrazioni trentennali della caduta del muro il ruolo di Voitila non è stato oggetto di nessuna valutazione storiografica. Eppure il suo papato è durato un quarto di secolo. Guerra fredda, età della globalizzazione, mostrando la vitalità del cattolicesimo su vari scenari, anche se problemi non sono mancati. E allora la domanda. Il pontificato di Giovanni Paolo II è stato un'illusione? È stato un'eccezione nel declino del cattolicesimo tra ventesimo e ventunesimo secolo? Verrebbe da pensare un'illusione, visto che il declino è continuato, ma la storia è complessa. Guardiamo alcuni indici. I sacerdoti in Europa erano 250.000 nel 78. Nel 2003 si ritrovano 200.000 con il calo di 50.000 effettivi. Si registra invece un incremento dei seminaristi diocesani e religiosi. Il Papa, con la sua personalità, con le sue iniziative, avrebbe coperto la crisi più che affrontato le cause della crisi. È una tesi più volte ripetuta. Il giudizio del Carinal Martini su Voitila, Martini nominato arcivescovo di Milano, era in chiaroscuro. Martini riconosceva al Papa un grande coraggio, anche fisico, una grande concentrazione nella preghiera, ma soprattutto il suo momento migliore era l'incontro con le masse e i giovani. Ne considerava invece criticamente il governo, con la scelta di personalità che considerava non qualificate. Deponendo al processo di beatificazione, il Cardinale ha osservato come i viaggi del Papa e gli eventi di massa abbiano oscurato le chiese locali e abbiano fatto di lui un Vescovo del mondo. L'osservazione riguarda soprattutto il ruolo carismatico di Voitila. Il carisma personale si innesta su una figura di pastore, resa popolare dalla globalizzazione, che tende a concentrare l'attenzione sul leader in un processo oggi usuale di verticalizzazione. Questa funzione universalistica del Papa, da un punto di vista ecclesiologico, avrebbe rappresentato un'usurpazione dello spazio dei Vescovi? Così ebbe a dire Papa Gregorio Magno al Giovanni il Digiunatore, arcivescovo di Costantinopoli, quando accettò dall'imperatore Maurizio il titolo di patriarca ecumenico. Fu una sconsiderata presunzione, secondo Gregorio Magno. Ma, cari amici, di fatto il mondo globale favorisce la personalizzazione della Chiesa nella figura del Papa e quasi, vorrei dire, impone un esercizio carismatico del suo ruolo. Grazie ai media e ai social avviene un processo di disintermediazione. e va considerato che il pontificato in esame inizia ben prima dell'affermazione del mondo globale. Tuttavia, già si poneva il problema della globalizzazione abbattendo le frontiere tra Est e Ovest. Gli anni di Benedetto XVI, Papa teologo, ma senza carattere carismatico, mostrano la fatica di gestire la funzione papale. E la ripresa di popolarità nei primi anni di Bergoglio è stata giocata in chiave carismatica stabilendo un rapporto semplice e diretto con la gente. Tanto che resta la domanda è una domanda se il papato nel mondo globale non debba essere per quanto possibile governo carismatico. Ho scritto un libro su Voitiwa con questo titolo e ricordo che il Cardinal Toran, uomo di Curia, commentando il libro e il titolo affermava che un governo carismatico è una contraddizione in termini. Ma gli ultimi decenni mostrano la positività di un Papa carismatico in questo tempo per governare un cattolicesimo complesso. Non va dimenticato che la beatificazione del nostro Papa nel 2011 a sei anni della morte con un'eccezione e la sua canonizzazione nel 2014 sono all'origine di polemiche sul fatto che sia avvenuta in tempi troppo rapidi. Si rimproverano a Votila un'assenza di vigilanza sui vescovi nei casi di pedofilia del clero, i problemi dei finanziamenti a Solidarnosc con tutte le loro connessioni, la vicenda dei legionari di Cristo e altro. Il National Catholic Reporter, espressione di punta di questa critica, propone ai vescovi americani di sopprimere il culto di Voitiwa come santo. Evidentemente, nel suo pontificato ci sono varie questioni non affrontate e risolte. Alcuni fatti di cui oggi non si parla sono stati sentiti da lui come un fallimento. Per esempio, il grave genocidio avvenuto nel 1994 in un paese cattolico come il Ruanda mentre si teneva il sinodo sull'Africa. Lo stesso reclutamento di clero e religiosi non ha registrato significative inversioni. Il Papa si è detto decisamente contrario a rivedere il celibato per l'ordinazione di uomini adulti sposati nella Chiesa latina. tuttavia la Chiesa di Giovanni Paolo II in tutte le varie dimensioni che non posso qui evocare dalle Filippine al Cile all'Africa e via dicendo è stata un protagonista rilevante della storia del suo tempo. La Chiesa di Giovanni Paolo II è stata un protagonista rilevante della storia del suo tempo anche rispetto agli altri papati del Novecento. Il suo pontificato si colloca in quella stagione che Gilles Capelli identificò con la Revanche de Dieu il nuovo protagonismo delle religioni che rappresentò una smentita della sioma della cultura occidentale che suona così più modernità meno religione. Non è stato così. Il Papa ebbe coscienza lo mostra la preghiera interreligiosa di Assisi nel 1986 del ruolo delle religioni come strumento di pace e di convivenza ma anche in senso contrario di legittimazione della guerra. Pensate all'ex Jugoslavia. del resto Karol Wojtyla e la Chiesa sono protagonisti di grande rilievo della vicenda di cambiamento in Polonia e nell'est europeo. Questo è indubitabile. Il funerale del Papa nel 2005 mostra il significato della sua figura per le classi dirigenti. Io restai impressionato trovandomi tra i gruppi dei partecipanti dietro la Basilica di San Pietro in attesa che i loro le loro macchine venissero a prenderli dalla presenza del Presidente iraniano Katami accanto al Presidente Bush. tutta la leadership religiosa mondiale il rabbino capo di Roma Toaf il patriarca di Costantinopoli il primate anglicano l'arcivesco vortodosso di Atene e tanta gente comune tre milioni attorno a Piazza San Pietro e tre milioni hanno sfilato attorno al Feretro. Non si può dire che il pontificato è stato un illusorio congelamento di problemi perché perché quegli anni hanno segnato la storia della Chiesa anzi è storia della Chiesa con cui fare i conti non per ripeterla ma nemmeno per considerarla una parentesi chiusa ma per comprenderla nella continuità e nella discontinuità del cristianesimo. Però devo dire che si è fatto fatica a filtrarne l'eredità così vasta e complessa non semplificabile. Giovanni Paolo II nel 1978 ha esordito con un annuncio centrato sulla paura come il Vangelo di Pasqua. Guardava i popoli dell'Est oppressi dai regimi comunisti e privi di speranza. Si rivolgeva ai cristiani d'Occidente intimiditi di fronte a un mondo che sembrava condannarli al declino con la secolarizzazione vincente. È interessante notare come il cattolicesimo è stato per secoli anche una religione della paura. De L'Humot l'ha mostrato nelle sue ampie ricerche. L'evocazione della morte e del giudizio di fronte a un'anima peccatrice facevano parte di una strategia pastorale che De L'Humot chiama sovracolpevolizzazione sovracolpevolizzazione della persona un sistema di controllo delle coscienze ma anche un atteggiamento di fronte a una vita fragile. La paura è ancora uno dei sentimenti più diffusi in questo tempo globale osserva il sociologo anglo-polacco Bauman pur notando che il genere umano non è mai stato in una situazione più sicura di oggi. Il cittadino globale invece si sente esposto a un mondo vasto senza confini dove l'altro nemico o amico può facilmente raggiungerlo e espropriarlo della sua sicurezza. La paura la rassegnazione al declino vengono affrontate da Giovanni Paolo II in modo articolato ma centrato sulla proposta di condividere la fede degli apostoli in Gesù risorto quella fede che cambia la vita e l'invia missionari del Vangelo. Per lui le risposte alla paura vanno trovate nel Vangelo e non in rassicurazioni politico-sociali. È un messaggio diretto allo stanco cattolicesimo occidentale. Così Giovanni Paolo II ha respinto la proposta di restaurazione della Chiesa preconciliare proveniente dai conservatori che puntavano al conclave nel Cardinal Siri uomo della tradizione e di Pio XII. La liberazione della paura è un invito al popolo polacco imbrigliato in un sistema di intimidazione. E alla fine in Polonia il messaggio del Papa e la sua presenza liberano energie di speranza che mettono in moto quel processo che porta ai cambiamenti dell'89. Negli anni 80 si coglie già la forza liberatrice del messaggio voetiliano che ha sciolto i polacchi dall'intimidazione del regime e liberato un movimento di cambiamento della società. Voetiva non intimidito dalla guerra fredda pensava all'Europa unita. Prima dell'elezione in un articolo apparso sulla rivista dell'Università Cattolica di Milano aveva detto questo. La sua era una visione geopolitica guidata da una passione mistica. Non accettava le divisioni della guerra fredda. Per lui le vere frontiere dell'Europa erano poste dalla diffusione del Vangelo verso Oriente. L'Europa comprendeva la Russia e le terre sovietiche. Si evidenziano qui allora due problemi del suo pontificato. Il comunismo che stava alle frontiere con l'Occidente e i rapporti con l'ortodossia in particolare il patriarcato di Mosca. Il pontificato di Voitila è stato un tempo di estroversione della Chiesa pensati ai viaggi ma anche un periodo di una qualche centralità dell'Europa perché l'Europa era centrale nella visione di Giovanni Paolo II che pure guardava il mondo. Il Papa era convinto che la salvaguardia del cristianesimo in Europa e vorrei dire la salvaguardia dell'umanità europea fossero vitali per il bene di tutti i continenti. Certo l'era postcoloniale aveva ridimensionato l'Europa questa aveva vissuto un declino con rimorso scrive il Papa il che comportava la caduta del senso di missione della Chiesa e dell'Europa nel mondo ma il Papa venuto dall'est da un'Europa che non era colonialista anzi un'Europa che in qualche modo era stata colonizzata si sentiva investito dal compito di ressuscitare l'Europa dello spirito e far cadere i muri e rilanciare una visione universalistica ravvivare lo spirito in Europa uscendo dal dominio della paura avrebbe messo in moto processi profondi per lui il cristianesimo anche se perseguitato era una forza disarmata di cambiamento sociale e storico il sogno di Compostela espresso nell'82 chiede all'Europa di recuperare le sue origini di ricostruire l'unità spirituale nel rispetto del pluralismo di essere faro di civiltà e stimolo di progresso assicurava Europa gli altri continenti guardano a te non si trattava di un'egemonia europea sul cattolicesimo ma nella visione geopolitica di Voitiva il cristianesimo del vecchio continente aveva una funzione e una vocazione il cardinal martini quasi dieci anni dopo a Compostela diceva si può affermare che come un tempo l'Europa è stata un punto di partenza per l'evangelizzazione del mondo oggi l'evangelizzazione del mondo è legata all'evangelizzazione dell'Europa martini si poneva in maniera dialettico complementare e teneva conto del carattere complesso della secolarizzazione per lui non del tutto negativo per lui non si doveva affrontare la secolarizzazione scomunicandola ma passando attraverso di essa l'Europa andava rievangelizzata martini descritto dalla stampa come un antivoitigua si misurava costantemente con l'insegnamento del papa il rapporto di martini col papa era sicuramente un rapporto dialettico ma estremamente riservato in una chiesa in cui viveva un dibattito interno ma anche molto rispettoso per il papa bisognava creare una nuova cultura europea penso il suo messaggio da Ravenna rifondazione della cultura europea in questo Wojtyla getta la sua carica carismatica un senso storico nutrito di messianismo la sua umanità e tanta tanta energia spirituale il papato radunava le folle anche nei paesi di stanca cristianità non pochi durante i suoi anni hanno osservato che il suo gettarsi in prima persona in mezzo alle folle potesse rappresentare un fatto emotivo più che un rinnovamento spirituale rendendo il suo passaggio privo di conseguenze ma era una realtà fatta di entusiasmo e di speranza perché Giovanni Paolo II ci ha ricordato che il cristianesimo è anche entusiasmo vorrei ora trattare un attimo un problema dei suoi tempi e dei nostri tempi una fede deculturata voi Tiwa e mi perdonerete per l'italianizzazione della pronuncia di questo cognome evangelizzatore a contatto con la pietà del popolo alla convinzione che la fede deve entrare in un processo di recezione profonda che tocca il cuore ma che si fa cultura tutti sappiamo la sua famosa espressione dell'82 una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta non interamente pensata non fedelmente vessuta il Vaticano il Vaticano II soprattutto la sua recezione aveva messo in discussione la cosiddetta cultura cattolica che correva il rischio di essere una contro cultura in reazione a quella contemporanea ma voi ti la affermava se è vero che la fede non si identifica con nessuna cultura non è men vero che proprio per questo la fede chiamata è impregnare e ispirare ogni cultura una fede che non diventa cultura per lui è una fede a metà Giovanni Paolo II sentiva che la Chiesa meticciandosi con la cultura contemporanea poteva essere creatrice di una nuova cultura alla luce della fede certo un nucleo duro di quella cultura di cui il Papa era portatore la cultura della vita era in contrasto secco con tanto sentire contemporaneo il Papa polacco capace di mobilitare i sentimenti temeva una fede deculturata perché effimera e non trasmissibile di generazione in generazione significativamente il Cardinal Bergoglio che non ha mai ecceduto di citazioni voetiliane ha sottolineato con forza il rapporto tra fede e cultura proposto da Giovanni Paolo II diceva Bergoglio una fede che non si fa cultura è una fede scusate che non si fa cultura non è una vera fede nel 98 il Papa pubblicò un'enciclica sulla filosofia Fides e Razio che si concludeva così a tutti chiedo di guardare in profondità l'uomo che Cristo ha salvato nel mistero del suo amore e alla sua costante ricerca di verità e di senso la fede di Voitila è una fede calda ma è anche una fede pensata noi moderni scriveva il grande religioso studioso delle religioni Mircea Eliad siamo destinati a risvegliarci alla vita dello spirito mediante le culture e le religioni millenarie rappresentano grandi culture Pio XI le chiamava culture religiose in modo mistico esperenziale Voitila riconosce la realtà dell'homu religiosus presente nei fedeli di tutte le religioni qui si colloca il dialogo e il contro e ricordo ancora il 1986 ad Assisi era inverno freddo quando il Papa si fece portatore della cultura del dialogo interreligioso convocando i leader delle grandi religioni nella città di San Francesco fu un messaggio originale di un Papa che aveva colto molto prima della cultura occidentale come le religioni rischiassero di diventare un'ideologia di guerra aveva percepito e la rivoluzione di Khomeini era del 1979 e diffondeva una teologia della liberazione islamica aveva colto come le religioni potessero diventare ideologie militanti ad Assisi le religioni pregando non più le une contro le altre come era avvenuto in passato ma le une accanto alle altre dovevano fondare una civiltà del vivere insieme in cui la preghiera purificasse i cuori e l'amicizia sostituisse le attaviche inemicizie la proposta di Wojtyla non fu apprezzata dal carinale Ratzinger attento alla peculiare missione della chiesa nella sua identità cristiana temendo che la figura del papa scadesse a presidente di un consesso di fedi tutte uguali dando l'avvio a un dialogo ambiguo o politica ricorretta in realtà Assisi è un aspetto della nuova cultura di Wojtyla ma non mi fermo qui sarebbe da studiare paese per paese la lettura che il papa operava della storia delle nazioni che visitava e io viaggiando in Africa mi sono reso conto quanto i discorsi di Wojtyla siano stati importanti in stati di recente fondazione e di scarsa coscienza nazionale perché Giovanni Paolo II proponeva una teologia delle nazioni e sentiva il valore delle nazioni affratellate nella preminente famiglia delle nazioni l'universalismo voetiliano si legava al tema della convivenza tra religioni la dimensione storica anche per le nazioni si vede alla sua rilettura della storia polacca che valorizza la stagione della convivenza tra polacchi lituani ucraini e ebrei la dimensione storica era molto coltivata da Wojtyla vediamo il suo ultimo libro memoria identità dedicato non solo alla guerra ma anche alla nazione e alla Polonia tutto può cambiare l'azione di Wojtyla per il risveglio del popolo polacco per incanalare un movimento di liberazione dal marxismo fu condotta con grande abilità politica si tratta di una teologia della liberazione applicata da un papa che in America Latina aveva condannato le teologie della liberazione soprattutto per l'utilismo del marxismo il marxismo come ideologia e i sistemi marxisti rappresentano una forma di concizione per l'uomo su cui Wojtyla non intendeva transigere anche se poi i contatti diplomatici con i governi erano necessari se la Polonia ha detto un contributo decisivo al movimento di liberazione dell'est il ruolo di Wojtyla in Polonia lo ribadisco e nell'est è stato molto più rilevante di quanto la storia e il giornalismo oggi scrivano con l'89 polacco avviene il capovolgimento di un paradigma consacrato da 200 anni di storia qual è il paradigma? i grandi cambiamenti rivoluzionari avvengono con la violenza esibita e praticata questo è il paradigma di rivoluzione dalla rivoluzione francese gli eventi dell'89 segnano il superamento dell'idea di rivoluzione violenta e di lotta di classe in realtà negli anni 80 operai intellettuali cattolici chiesa hanno lottato insieme in Polonia per una rivoluzione pacifica gli eventi del 1989 sono stati il capovolgimento del paradigma instauratosi con la rivoluzione francese una transizione pacifica è possibile Geremek grande storico polacco ha scritto si tratta di una rivoluzione contro l'idea giacobina contro i metodi suoi contro la violenza il terrore il bagno di sangue la centralizzazione del potere e l'onnipotenza dello Stato possiamo condividere la sua conclusione la rivoluzione dell'89 ha dato il colpo di grazia alla rivoluzione del 1789 guardiamo l'enciclica centesimus annus la lotta per la transizione pacifica ribadisce Voitiua non ha causato morti ma ha chiesto pazienza sacrifici lucidità e moderazione ed aggiungeva ha rivelato la forza della preghiera la chiesa conservando uno spazio spirituale ha preservato la speranza della liberazione le rivoluzioni dell'89 hanno mostrato la forza dello spirito e della coscienza esistono correnti spirituali profonde diceva il sindaco di Firenze Giorgio Lapira che aveva una geopolitica simile a quella di Voitila anche se non si sono mai conosciuti è la posizione di un altro protagonista dell'est Havel con l'affermazione del potere dei senza potere quando invitò a non vergognarsi dell'amore della solidarietà della compassione ma al contrario di liberare queste dimensioni fondamentali della nostra umanità dall'esilio nel privato portare queste dimensioni umane in pubblico questo è stato dirompente e gli dice la liberazione dell'anima dal totalitarismo che aveva annientato ogni risorsa civile e morale la valorizzazione della forza dello spirito non della violenza come motore del cambiamento è destinata a divenire protagonista di tanti eventi del ventunesimo secolo che hanno scosso le coscienze radunato la gente fatto tremare regimi consolidati non voglio addentrarmi qui nel giudizio politico ma pensate alle primavere arabe che hanno dato risultati duraturi solo in Tunisia ma movimenti più recenti in Libano Hong Kong il laico Abel e il papa di Roma si sono trovati sulla stessa lunghezza d'onda accogliendo Voitila a Praga nel 90 Abel dice io non so cosa sia un miracolo nonostante ciò oso dire che in questo momento sto partecipando a un miracolo nel paese devastato dall'ideologia dell'odio arriva il messaggero dell'amore nel paese devastato dal governo degli ignoranti arriva il simbolo vivo della cultura nel paese fino a poco tempo fa devastato dalla divisione del mondo arriva il messaggero di pace sì cari amici il cristianesimo di Voitua ha mostrato la forza dello spirito come è stato rovesciato l'ordine di Yalta sembrava che solo una guerra dice Voitila Frossard potesse farlo invece è stata l'azione non violenta degli uomini che pur avendo sempre rifiutato di cedere al potere hanno reso testimonianza la verità e disarmato l'avversario sono parole di Voitila la sua idea è un mondo senza muri notava già nell'89 che le frontiere tornano a chiudersi per lui i migranti non solo un fatto sociologico nei migranti si incontra Cristo dice accogliere l'altro non è filantropia è molto di più perché in ogni essere umano si incontra Cristo che intende essere amato e servito e dieci anni dopo Voitila teologo della nazione ribadiva un universalismo ben lontano dal nazional cattolicesimo la chiesa diceva è per sua natura solidale con i migranti i quali con la loro varietà di lingue razze le ricordano la sua condizione di popolo pellegrinante tale prospettiva aiuta i cristiani ad abbandonare ogni logica nazionalistica la cattolicità dice non si manifesta solamente nella comunione fraterna dei battezzati ma si esprime nell'ospitalità allo straniero qualunque sia la sua appartenenza religiosa ritorno alla domanda dell'inizio eccezione o illusione il suo pontificato non è stato l'illusione di un grande comunicatore la chiesa ha inciso nella storia se c'è qualcosa di irripetibile in ogni momento storico bisogna provare a leggere la lezione complessa del pontificato con la sua cultura la sua peculiare sensibilità la sua carica di messianismo profetico e polacco la sua fede Voitila ha tentato di realizzare un cristianesimo nella storia fuori dalle inibizioni della paura e delle ideologie io lo ricordo nel 2003 ormai malato quando dice al corpo diplomatico tutto può cambiare dipende da ciascuno di noi ognuno può sviluppare in se stesso il proprio potenziale di fede di probità di rispetto altrui di servizio agli altri arrivo ora nella parte finale del mio discorso che non è ancora finito che però gira attorno a una domanda c'è un'eredità ho parlato di papato carismatico anche se il papa non rinuncia a governare la curia e si serve delle istituzioni ma dà molto spazio a momenti abitati da una tensione carismatica incontri viaggi giornate per la gioventù pellegrinaggi gesti simbolici movimenti laici iniziative estra istituzionali vedete la sua figura non dismette gli abiti bianchi tradizionali non si allontana dal palazzo dei papi dai modelli dei predecessori dal sistema di governo di paolo sesto ma forza ai confini del rituale papale del protocollo della tradizione compie sortite originali e simboliche oltre le frontiere tradizionali che non rinnega ma abita con originalità è un misto di sovrano pontefice erede di una lunga tradizione consapevole anche dell'aspetto cerimoniale amministrativo e di leader carismatico fuori dai canoni con un linguaggio originale anche con una gestualità e con un uso del corpo del papa originale si muove tra il registo dell'istituzione e quello del carisma è capo dell'istituzione e favorisce i carismatici è un leader carismatico non un attore ma con una forte carica di umanità come si vede nel rapporto con le persone il rapporto con le giovani generazioni così difficili in quei tempi gli incontri con i giovani hanno costituito uno degli aspetti più carismatici mostrando la sua capacità di attrazione un grande inviato italiano Igor Mann ha scritto del 2000 di fronte a una generazione di genitori occidentali poco capaci di essere genitori i giovani sono stati attratti dalla sincerità del grande nonno il papa il papa non teme il tifo da stadio si presenta debole e malato lo ricordo la gmg di roma nel 2000 ma abitato da uno spirito che si impone ai giovani è un profeta postmoderno dice Igor Mann la dimensione carismatica è anche la sua considerazione della pietà popolare mariana le visite ai santuari e nella sua devozione mariana c'è una forte comprensione della figura carismatica di maria nella chiesa a questo aspetto si aggiunge anche l'attenzione del papa ai movimenti carismatici nella chiesa che incoraggia come parte attiva dell'evangelizzazione le nuove comunità e i movimenti realtà diverse tra loro classificate forzatamente con la categoria di movimento rappresentano un'altra concezione dell'approccio con la gente rispetto alla parrocchia giovanni paolo secondo era convinto che questo insieme di realtà rappresentassero uno spazio carismatico importante nella pentecoste del 98 disse i movimenti riconosciuti ufficialmente dalla chiesa si pongono come forme di autorealizzazione e riflessi di un'unica chiesa e lancia poi la sua proposta ai movimenti alla chiesa oggi dinanzi a voi si apre una nuova tappa la maturità ecclesiale ed era una tappa non solo per i movimenti ma per la vita ecclesiale la comunione tra aspetti istituzionali e carismatici e Papa Voitila diceva l'aspetto istituzionale e quello carismatico sono quasi coessenziali alla costituzione della chiesa e da questa provvidenziale riscoperta della dimensione carismatica della chiesa che prima e dopo il concilio si è affermato una singolare linea di sviluppo dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità questa affermazione veniva da vent'anni di pontificato condotto nella congiunzione delicata non sempre riuscita tra ministero istituzionale e aspetto carismatico e qui io vorrei solo toccare una tematica non identificabile solo con le nuove comunità ma anche con i nuovi carismi delle comunità e delle parrocchie per quello che riguarda le nuove comunità il Papa aveva assunto il rapporto con questo mondo direttamente in modo simile al papato con i religiosi i movimenti e le nuove comunità quali sono alla fine del ventesimo secolo rappresentano lo spazio carismatico della chiesa in realtà c'è di più in realtà in Voitila c'era l'idea di una dinamica ulteriore da sviluppare qualcosa di oltre di più un sorgere di una chiesa di popolo nel 1983 commemorando l'interrettuale russo Ivanov morto a Roma disse nella ricca tradizione slava e tutto il popolo che è teologo e cristoforo chiesa di popolo in America Latina aveva percepito il limite istituzionale del cattolicesimo di fronte alla crescita dei movimenti neoprotestanti come nota la sociologa francese Hervie Leger il cattolicesimo è percepito come una religione fredda normativa amministrata dall'alto e l'entusiasmo dice verso le personalità cattoliche fuori dal comune si afferma a dispetto dell'istituzione e continua la sociologa questa percezione superficiale di un cattolismo triste è associata all'idea di morale cattolica come morale di repressione Voitila intendeva superare questi limiti anche se non voleva mutilare il messaggio della Chiesa il giubileo del 2000 era per lui una grande occasione avrebbe dovuto essere una proposta di autoriforma della Chiesa intriso di visioni messianiche egli vedeva nell'ingresso nel nuovo millennio un passaggio decisivo guardiamo con attenzione e rileggiamo i documenti papali del giubileo terzo millennio adveniente e nuovo millennio in eunte in cui si sente la mano di Giovanni Paolo II la proposta di riforma rivolta alla Chiesa al termine del giubileo è fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione questo è un discorso dimenticato bisogna rivisitare invece per il Papa tutti gli ambiti anche istituzionali alla luce della spiritualità della comunione trasfigurandoli il vecchio Papa affermava quasi per riformare la Chiesa occorre a questo scopo far nostra l'antica sapienza che senza portare alcun pregiudizio al ruolo autorevole dei pastori sapeva incoraggiarli al più ampio ascolto del popolo di Dio San Benedetto continua ricorda l'abate di consultare i più giovani spesso a uno più giovane il Signore ispira un parere migliore e San Paolino di Nola esorta pendiamo dalla bocca dei fedeli fin qui poetila era una sfida al governo pastorale delle diocesi cioè la sfida del millennio era dilatare gli spazi di comunione in una Chiesa che era ancora troppo piramidale lasciando crescere le espressioni carismatiche popolari devozionali ascoltando il popolo di Dio una proposta che forse la macchina degli eventi del Giubileo aveva messo in secondo piano alcuni eventi hanno però segnato una forte presa di coscienza della Chiesa come la richiesta di perdono dei peccati compiuti dalla Chiesa e dei suoi figli che ha alle spalle una robusta riflessione teologica senza cui il cattolicesimo avrebbe affrontato con fatica il ventunesimo secolo oppure un'altra per me importantissima la celebrazione dei nuovi martiri al Colosseo che mette in luce come la Chiesa del ventesimo secolo è una Chiesa di martiri convoitila il martirio torna centrale e attuale nella Chiesa cari amici questa riforma non si è realizzata per lo stato di salute del Papa perché gli uomini di Chiesa di allora non l'hanno considerata rilevante perché il Papa non aveva la forza di imporla questa riforma però poneva la premessa del riconoscimento dello spazio carismatico e popolare della Chiesa ma non era una riforma democratica puntava alla centralità del Vangelo il Papa chiedeva un ritorno al Vangelo e prendeva le distanze da quella cultura dei programmi pastorali ma la cultura del programma pastorale è un'espressione della cultura del piano tipica delle organizzazioni politico-sindacali fin dagli anni venti una cultura datata nella nuovo millennio in Eunte il Papa scriveva non si tratta di inventare un nuovo programma il programma già c'è è quello di sempre raccolto dal Vangelo e dalla viva tradizione esso si incentra in Cristo da conoscere amare e imitare cari amici che avete avuto la pazienza di ascoltarmi fino a qui la rimeditazione del pontificato di Voitila è molto importante alla luce delle riflessioni sul declino del nostro mondo europeo e sui problemi della Chiesa e per questo dico che queste lezioni che vengono tenute qui all'Angelicum hanno una loro importanza un loro valore proprio perché ci guidano a rimeditare il pontificato di Voitila e la sua eredità le tematiche della paura della cultura come spazio del cristianesimo della carismaticità dell'incidenza del cristianesimo nella storia scrive Voitila trasformare la storia con il cristianesimo la riforma della comunione il ritorno al Vangelo la realtà è che in qualche modo il pontificato di Voitila tanto lungo e complesso si è chiuso senza una rimeditazione e non è stato succeduto da una sua riflessione Papa Benedetto XVI così devoto all'insegnamento di Voitila ha tracciato una sua linea nel suo pontificato non breve no l'eredità di Voitila è stata in parte articolata in diversi segmenti sulle posizioni più diverse contradditorie in fondo Giovanni Paolo II è stato richiamato dai movimenti pro-life sui temi che stanno loro a cuore ma non per altri aspetti del suo pontificato ma la grandezza di questo pontificato è tenere insieme tanto tutto della vita della Chiesa e del messaggio cristiano in questo senso è un pontificato veramente cattolico nella profondità di questa espressione e poi questo pontificato è più di un quarto di secolo della nostra storia della storia della Chiesa grazie 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 professor Riccardi ora ascolteremo le domande del pubblico per favore usi il microfono grazie signore posso dire scusa in anticipo per il mio italiano ho due domande e una richiesta il primo sulla riforma della diocesi del 1995 non è stato un errore dividere in diverse dozzine alcuni importanti centri ricerca teologica cosa che ha comportato un enorme aumento della domanda di teologi si è concluso con il riempimento di persone non istruzioni preparate il livello di istruzione accademica seminariale e catechistica e crollato seconda domanda è stato un errore ignorare le minacce dell'UE Unione europea e il liberalismo della democrazia tra l'altro persuadere i pollacchi a votare a favore dell'adessione all'UE rispondo parto dall'ultima domanda il presidente del consiglio Giuliano Amato all'epoca dell'ingresso della Polonia in nell'Unione europea diceva non possiamo dire di no perché il Papa ci fa pressioni continue cioè non so se conviene diceva Amato ma non possiamo dire di no questo per confermare la sua ipotesi della volontà di Giovanni Paolo II di ancorare la Polonia all'Unione europea questa era la sua visione ma la sua visione stati attenti non coincideva con una parte dell'episcopato polacco e con una parte dei polacchi stessi in questo senso Wojtyla ha avuto un suo pensiero originale che possiamo condividere o non condividere ma il suo scopo era ancorare saldamente la Polonia all'Europa convinta che la Polonia isolata avrebbe rischiato di ricadere nel destino di essere schiacciata tra ovest ed est in questo senso lei dice c'è stata una sottovalutazione diciamo così del liberalismo delle istituzioni europee può essere ma Wojtyla non aveva paura di questo non aveva paura di questo in questo senso è stato sempre un combattente come ha fatto per le radici cristiane dell'Europa a mio avviso una battaglia che è stata condotta male dalla diplomazia vaticana condotta male perché è stata condotta in maniera recriminatoria fidandosi di qualche personalità politica italiana e poco altro ma non importa non tutte le cose che faceva Wojtyla gli riuscivano perché la curia è complessa non dominava tutta la macchina e in una certa misura a me disse una volta se io avessi dovuto fare tutte queste cose e quando diceva tutte queste cose alludeva al Vaticano non avrei fatto quello che ho fatto nella mia vita l'ho detto era nell'istituzione alla testa dell'istituzione ma aveva anche le sue cose allora per quello che lei dice dei centri di teologia è molto interessante quello che lei dice io non posso che aderire alla sua opinione non ho studiato la questione non mi sono mai interessato devo confessare direttamente a questo la divisione delle diocesi è stato un fatto voluto dalla congregazione dei vescovi divisione delle diocesi che è avvenuta a San Paolo del Brasile divisione delle diocesi che è avvenuta a Parigi secondo me io sono personalmente contrario alla trasformazione della carta geografica pastorale anche nella chiusura delle piccole diocesi in Italia perché penso che abbiano una storia e penso che ci vorrebbe una fantasia istituzionale pastorale ma questo è un attipico però la diocesi di Milano che credo sia fra le più grandi del mondo non è mai stata toccata attualmente l'Unione Europea non è cristiana solo anticristiano adesso ho una richiesta perché si prega di non citare nuovamente Bauman quest'uomo era un criminale in Polonia presto fedelmente nei servizi segreti stalinisti fu coinvolto nell'inseggiamento dei patrioti polachi che furono poi torturati e brutalmente uccisi io sono un uomo di ricerca conosco la storia di Bauman e cito chi voglio io prego grazie mi chiede una question in inglese as well mi chiede mi chiede Samuel mi chiede slowly mi chiede mi chiede Samuel mi chiede facoltà di social scienze grazie professor Riccardi per il tuo talk ho tre domenzi ho chiesto di essere pronti con tutti domenzi prima voglio chiedere un punto in cui il pontificato di John Paul II è considerato un illusion non 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 l'unico ma è importante di questo di oggi l'unico journalist Ross Dowdhead in his recent book on Pope Francis dice che il start di pontificato di Pope Francis l'image di la church overall era più di una conservativa church era more di la reading di II Vatican di con line con spirit of II Council or liberal modernist tendencies were not present in the church so Ross Dowdhead says it seemed until the start of the pontificate of Pope Francis but Ross Dowdhead says that it turns out that this was an illusion that in fact the church is more diverse many other views of interpretation the is more diverse and Ross Dowdhead says that this has shown itself properly since the start of the pontificate of the second Vatican council so my question is whether you would agree that it was indeed an illusion which was a part of the pontificate of John Paul II that the church appeared very conservative while in fact it was a lot more diverse even during the pontificate of John Paul II so this is my first question shall I say the other ones or do you want to respond ma io è molto interessante la sua domanda e si presterebbe a una conferenza perché pone il problema della continuità dei pontificati Giovanni Paolo II Francesco ma io direi anche Paolo VI e la grande domanda conservatore o non conservatore la chiesa di Giovanni Paolo II è una chiesa conservatrice o non conservatrice allora io qui vorrei fare una piccola riflessione e colgo la sua domanda per dire anche qualcosa che non ho detto nella mia conferenza dobbiamo smetterla di parlare della storia della chiesa nel termine delle categorie politologiche che sono andate di moda nel postconcilio conservatori e progressisti sono categorie che non esistono Papa Giovanni Paolo II è stato considerato da alcuni un progressista da alcuni un incredibile conservatore cos'era Giovanni Paolo II un cattolico ma un cattolico nel senso pieno dell'espressione Papa Francesco in Argentina in America Latina Bergoglio era considerato da una buona parte un conservatore oggi viene considerato un rivoluzionario allora per comprendere le personalità della chiesa noi dobbiamo secondo me coglierne la storia e recepire il loro messaggio questo è difficile noi non possiamo scusi non possiamo affrontare la storia della chiesa con categorie prefabbricate perché la chiesa è originale è originale il signore prego egregio professore all'inizio vorrei ringraziarla per questa bella presentazione e la mia domanda era quella come per il fondatore della comunità di Sant'Egidio perché adesso si vede molto chiaro in questo pontificato di Papa Francesco questo aiuto per i poveri per i disabili per le persone senza tetto eccetera senza dubbio no? io come polacco molto spesso sento qui a Roma anche in Polonia che nell'altri pontificati anche durante il pontificato di Giovanni Paolo II questo aiuto non era così chiaro o forse aveva altri aspetti non lo so sappiamo bene che lui anche collaborava con Santa e Madre Teresa di Calcutta eccetera allora ci sono qualche aspetti e sappiamo anche che lei ha collaborato con Giovanni Paolo II da tanti anni e la sua voce sarebbe per me penso che anche per gli altri molto molto importante allora questo aiuto durante il pontificato di Giovanni Paolo II è vero o forse anche l'illusione ma io ritorno a quello che dicevo al Signore ogni Papa è una storia e in un certo senso dice Gregorio Magno la parola di Dio cresce e c'è una crescita c'è un progresso spirituale che noi spesso non vediamo allora i papi vengono definiti Giovanni Paolo II Papa della famiglia Bergoglio Papa dei poveri ma sono espressioni riduttive io ho avuto esperienza di come Giovanni Paolo II fosse molto attento al tema della povertà lei ha già citato Madre Teresa ed è un aspetto ma penso alla sua sensibilità su altri due aspetti che conosco meglio le periferie di Roma ricordo una volta una visita a un campo zingari in cui si presentò uno zingaro con tutta la mano fasciata lui la presa e gliela baciò il disagio delle periferie l'iniziale razzismo quando fu bruciato da un gruppo di giovani romani delinquenti un giovane somalo che dormiva al centro di Roma e si chiamava Ligiamo Giovanni Paolo II ci chiamò a Chiesa Nuova per parlarne e ne parlò all'Angelus per dire la sua sensibilità e quindi non si può dire che uno è il papa della famiglia l'altro è il papa dei poveri l'altro è il papa della politica Paolo VI o Giovanni XXIII è il papa della pace è un errore certo gli accenti in papa francesco sono diversi perché papa francesco ha una teologia del povero che è la teologia di San Giovanni Crisostomo di Matteo XXV estremamente accentuata quindi c'è una diversità ma la diversità non vuol dire bianco e nero io la ringrazio di quello che mi ha detto perché questo porta anche a una comprensione più profonda di ogni papa vorrei citare per esempio l'aspetto degli ebrei si può dire che Paolo VI e Giovanni Paolo II erano nella linea del concilio della fine dell'insegnamento del disprezzo e tutto ma non c'è paragone della diversa sensibilità tra Montini e Voitiva su questo in Voitiva c'è stata una coscienza del semitismo del cristianesimo c'è stata una coscienza del rapporto con gli ebrei profondissima per alcuni anche sconvolgente tanto che sono state messe voci in giro su di lui dai ambienti critici proprio per il suo legame con l'ebraismo questo non vuol dire che Paolo VI fosse antisemita assolutamente no ma Voitiva aveva questa sensibilità tutti ci ricordiamo il rabbino Toaf di Roma nel suo testamento lui e Don Stanislao e nessun altro cito un altro esempio per rafforzare quello che lei diceva signore professore prego signore professore vorrei dare le grazie per la sua magnifica esposizione e anche vi domando le mie disculpe perché sono spagnolo e il mio italiano non è una colpa essere spagnolo no grazie grazie ma è una colpa per alcuni è un vantaggio certo ma sbagliando si impara diciamo è una magnifica esposizione io vorrei uscire un po' del papato e ingressare nel mondo della geopolitica se me lo permette perché io ho bisogno di sapere dove ha trovato San Paolo San Giovanni Paolo l'aiuta per fare cadere il comunismo perché lui da solo penso che è stato impossibile e penso che ha trovato l'aiuta negli Stati Uniti o non lo so questa è una prima domanda e la seconda è una riflessione che potrebbe essere come ve ne dirai motivo di una seconda conferenza se l'erenzia o l'eredità di questa opera magna di avere fatto cadere il comunismo oggi non sta essendo bene utilizzata perché diciamo che questa opera di unificazione sta essendo sta aprendo la porta di un governo e di una globalizzazione estrema che penso che va incontro dell'uomo e anche incontro della religione particolare perché sta facendo dell'uomo un cero molte grazie signore diciamo di rispondere a una domanda accontentiamoci di una domanda lei con la sua seconda mi tenta molto perché io ritengo oggi che il problema del cristianesimo più che la secolarizzazione sia la globalizzazione che appiattisce e nello stesso tempo divide è un fenomeno stranissimo mi tenta però lasciamo una prossima conferenza Giovanni Paolo II aveva capito come ha fatto a far cadere il comunismo io devo dire quando c'è stata la celebrazione della caduta del muro di Berlino mi sono molto dispiaciuto che non sia stato messo in luce il ruolo di Giovanni Paolo II ma già io ho scritto questo libro su Giovanni Paolo II perché già mi ero accorto nel mille mille scusate ma nel 2011 quanto già si stava dimenticando come ha fatto in italiano ha un titolo più religioso siamo devozionali noi italiani Giovanni Paolo Santo Giovanni Paolo bibliografico però venendo scusate alla sua domanda molto importante io non lo so però sono convinto che Giovanni Paolo II il maggiore alleato di Giovanni Paolo II per la transizione in Polonia è stato il popolo è stato il popolo polacco lui ha capito i sentimenti i problemi i drammi di questo popolo e ha saputo dare coraggio al popolo polacco in questo senso è rimasto sempre un polacco io ricordo quegli anni era setato di notizie dalla Polonia quando uno veniva dalla Polonia lo invitava chiedeva poi questo non l'ho detto ma Giovanni Paolo II non era come tutte le persone che diventano un po' importanti le persone quando col passare degli anni diventare importanti parlano e non ascoltano Giovanni Paolo II tu andavi a pranzo da lui faceva così ora sentiamo e parlava ti faceva parlare ti faceva domande cioè voleva sempre imparare da ognuno a me questo mi ha colpito anche quando avevo 28 anni un ragazzo lo ascoltava e alla fine diceva oggi il Papa ha capito oggi il Papa pensa questo è un fatto e poi con la sua memoria incredibile era un vero computer e veramente aveva una grande capacità di di comprensione quindi conosceva la situazione polacca e ha saputo interpretare la forza e il dramma di questo popolo ha parlato con tutti laici cattolici intellettuali europei e intellettuali operai e questa è la sua sintesi poi c'è stato il rapporto con Reagan quando molti governi in Europa vedevano Reagan come un personaggio difficile lui ha avuto la grande capacità di come dire capire che la politica di Reagan era utile al logoramento dell'Unione Sovietica e la Casa Bianca gli trasmetteva costantemente informazioni poi ci sono stati anche i soldi io dico sempre ai custodi della memoria di Giovanni Paolo II che non bisogna aver paura di dire che molti soldi dall'Europa dai polacchi d'America dagli Stati Uniti dai privati sono andati in aiuto al popolo polacco a Solidarnosc perché quando gli operai non lavoravano le famiglie bisognavano mantenerle e via dicendo anche questo c'è stata una mobilitazione questo io lo metto nel mio libro ho chiesto molti no no sì sì ecco e quindi c'è stata anche una mobilitazione europea una mobilitazione della povera gente una mobilitazione e quindi c'è stata una convergenza finisco che in Europa si credesse che il comunismo cadeva ci credevano cinque persone di cui Giovanni Paolo era una e forse due stavano al manicomio ecco dico per dire l'idea era che il comunismo sarebbe durato ancora lungo ma perché noi lo dico ero abbastanza grande a quell'epoca noi europei occidentali non sapevamo niente di quello che succedeva di là sì un po' la Polonia la conoscevamo un pochino un pochino ma quello che succedeva in Ucraina cos'erano le nazioni nell'est per noi esisteva il comunismo non esistevano le nazioni e Giovanni Paolo II attento al popolo ha recuperato le nazioni ecco questo mi sembra il punto per noi non esistevano le nazioni ma non che fossimo così ignoranti da non saperle ma c'era stato così un conflitto ideologico tra est e ovest per cui comunismo e poi l'Unione Sovietica sembrava salda invece il Papa che pure non aveva viaggiato nell'est perché non era mai stato in Unione Sovietica non era mai potuto stare però con i suoi radar conosceva la complessità di quegli enormi territori io mi ricordo quando lui parlava e cominciava a citare le città della Galizia Leopoli e l'altro e l'altro e le presenze e le composizioni interetniche e lui aveva la capacità sapeva che era un mare in movimento a lei scusa ma sto solo imparando l'italiano e io leggerò la mia domanda perfetto caro professore sono un sacerdote dalla Polonia per prima cosa lasciatemi esprimere la mia gioia e il mio rispetto per lei è meraviglioso per me che tu lasci che Gesù operi attraverso il tuo lavoro sociale ecclesiale politico la mia domanda la mia domanda riguarda le comunità ecclesiali lei ha fondato la comunità da Giovane questa comunità è stata ufficialmente confermata dal Vaticano per 35 anni oggi in molte comunità ecclesiali c'è una crisi di disobbedienza abusi e fama mediatica la mia domanda secondo lei cosa è importante per la comunità ecclesiale per non perdersi nel mondo instabile di oggi grazie mille questa c'entra relativamente con Giovanni Paolo II però possiamo dire che Giovanni Paolo II ha favorito la nascita delle comunità ecclesiali dei movimenti perché lui pensava che come i grandi ordini religiosi hanno portato il concilio Vaticano il concilio di Trento nelle diocesi così i nuovi movimenti avrebbero potuto portare il concilio Vaticano II nelle diocesi c'era un po' questo parallelo e poi questa grossa celebrazione del 98 che è importante per lui ma io credo che poi questo si è sviluppato anche successivamente quando oggi noi leggiamo il documento della congregazione del clero dove si dice che la parrocchia non è eminentemente territoriale beh vediamo che c'è qualcosa di profondamente diverso allora io dico le difficoltà che oggi possono avere i movimenti che non vanno nemmeno esagerate che ci sono e che c'erano sono difficoltà dovute anche alla crescita in tutto il mondo e soprattutto al passaggio da una generazione all'altra e anche al cambiamento di sensibilità e di cultura e anche direi al cambiamento del rapporto con i giovani perché essenzialmente questi movimenti erano movimenti di giovani oggi c'è un problema di rapporto tra la chiesa e i giovani allora Papa Francesco ha una visione diversa da Voitiva ma non contraria anche perché Papa Francesco non si identifica in nessuna posizione di un movimento o di un altro io credo che il grande problema sia che i movimenti siano al servizio del Vangelo dell'evangelizzazione dei poveri e non di se stessi ma questo è capitato anche agli ordini religiosi di essere tante volte al servizio di se stessi e poi un po' io sono per l'idea di dire che sono esperienze molto diverse perché alcuno sono esperienze per esempio miste con consacrati e laici e quindi sono esperienze in parte religiose quindi anche diverse sarebbe un discorso lunghissimo ancora un'altra conferenza vi sto facendo un programma io vi ringrazio molto per le vostre domande perché un mio amico Oscar Kuhlman famoso esegeta svizzero andò a fare un corso di conferenze e mi disse la mia crisi è venuta dalle domande perché dalle domande ho capito che non mi avevano ascoltato da quel momento non ho più voluto domande e qui invece ho capito grazie abbiamo iniziato oggi tante nuove conferenze vede sono felice di questo professor Riccardi mi permetta ancora una volta di ringraziarla di cuore per aver accettato il nostro invito e per questa interessante insieme carismatica molto profonda lezione inoltre ringrazio il pubblico che si segue qui al angelicum online e inoltre inoltre mi invitavo in inglese per la prossima lezione 17 februari con John Milbank e grazie a tutti i nostri guest grazie Grazie a tutti